Buonasera, ho tardato un altro minuto per avere la certezza per quanto si tratti di proiezione ma sono proiezioni ormai su base scientifica, abbiamo imparato ad apprezzarle e avere la certezza delle proiezioni che questa vittoria è una vittoria di tutto il centrodestra nel senso che anche i partiti, chiamiamoli regionali, raggiungeranno una soglia da 5 e quindi contribuiranno con loro rappresentanti, gli ultimamente eletti, a sostenere il mio governo e questo mi sono particolarmente felice, per due motivi, uno è il motivo di stabilità dell'azione in quanto ci sarà una maggioranza abbastanza qualificata e non così leggera come qualcuno da un bravo, l'altro perché rafforzerà l'azione di governo in quanto tutti i partiti che mi hanno sostenuto avranno una pare dignità anche a livello legislativo, così come ho detto nel primo momento quando ho lavorato alla formazione dell'estima. Per me pare dignità significa confronto al di là dell'entità dei consensi.